Stato d'emergenza, arrivano agevolazioni per i pagamenti dei pesaresi. Ricci punta su riscossa PD e su Biancani e Vimini per la successione. Discarica senza un piano B si procede su riceci. 16 lavoratori in nero, sospesa l'attività di 6 aziende. Gli scout di Pesaro pronti a festeggiare il centesimo compleanno. Buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV. Ben ritrovati al nostro spazio informativo della sera Rossini News, il nostro telegiornale che in questa edizione di mercoledì 7 giugno apriamo aggiornandovi sullo stato d'emergenza relativo al maltempo di maggio per quello che riguarda il nostro territorio. Oggi infatti il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli e il presidente della provincia di Pesaro Urbino Giuseppe Paolini sono stati ascoltati in udienza dal governo Palazzo Chigi per valutare l'ampliamento sia degli stanziamenti per lo stato d'emergenza sia per quello che riguarda i comuni coinvolti. Oltre i 7 fin qui inseriti dal primo stralcio, dal primo emendamento dello stato di emergenza. Fra questi finora c'è proprio la città di Pesaro che intanto può beneficiare di alcune agevolazioni per i pagamenti dei cittadini. Dopo l'alluvione dello scorso maggio sono in arrivo agevolazioni su alcuni pagamenti per i cittadini essendo il comune di Pesaro tra le realtà inserite nello stato d'emergenza per i danni ingenti subiti da maltempo. Come pervede il decreto legge alluvione entrato in vigore il 2 giugno sono sospese infatti fino al 31 agosto le scadenze dei versamenti tributari, di contributi previdenziali e assistenziali, premi assicurativi obbligatori, ritenute alla fonte delle addizionali comunali e regionale IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, cartelle esattoriali, adempimenti tributari e adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, scadenze procedimenti e termini amministrativi. Come si legge nel decreto tutti i versamenti sospesi dovranno essere pagati entro il 20 novembre mentre tutti i termini per gli adempimenti sospesi riprenderanno la loro decorrenza dal 31 agosto. Il decreto alluvioni prevede anche il differimento al 31 dicembre del termine per l'ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari situate nei territori interessati ai fini del bonus 110%. Si tratta di una modifica finalizzata a agevolare gli interventi sugli edifici danneggiati dalle recenti alluvioni che permette quindi per il 2023 di poter beneficiare del super bonus nella misura del 110% in luogo di quella prevista per la generalità dei contribuenti del 90%. Intanto proprio oggi a Palazzo Chigi il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli e il presidente della provincia di Pesaro Urbino Giuseppe Paolini sono stati in audizione al governo assieme ai rappresentanti istituzionali dei territori romagnoli colpiti dall'alluvione. Governo che ha mostrato aperture confortanti nell'ampliare lo stato d'emergenza oltre i sette comuni pesaresi fin cui inseriti sia di intervenire in favore degli stanziamenti per strade e territori vittime di frane e danneggiamenti. Ieri sera Rossini TV vi ha mostrato in diretta dal cortile dei musei civici di Pesaro il confronto dibattito dedicato ai nove anni da sindaco di Matteo Ricci. Tantissime le tematiche emerse in quasi due ore, fra queste spicca ad esempio la grande fiducia di Ricci per il futuro del centro-sinistra per le prossime elezioni amministrative e non solo. Nove anni da sindaco. A 12 mesi dal termine del suo doppio mandato da primo cittadino di Pesaro, Matteo Ricci ha tracciato ieri sera il suo personale dipinto a 360 gradi di presente, passato recente e futuro prossimo della città e del suo scenario politico. Un dibattito nel cortile dei musei civici ripreso dalle telecamere di Rossini TV in cui Ricci, incalzato dalle domande della stampa locale, ha analizzato trasversalmente ogni tema caldo del territorio. Dalla prossima capitale della cultura alla pericolosa convivenza con gli effetti del cambiamento climatico, dai nodi della sanità a quelli della gestione dei rifiuti, dai fondi PNRR legati alle grandi opere all'impegno nei servizi sociali. Inevitabile però il pungolo verso le prossime elezioni amministrative anche alla luce del recente ribaltone elettorale avvenuto ad Ancona. Il centro-destra locale, che diciamoci la verità, sono tutti bravi ragazzi ma non toccano palla su nessun tema, né politico né amministrativo, sperano ogni volta nell'aiuto esterno, ma la metà di quelli che votano per loro alle politiche votano per noi alle amministrative. Quindi non riescono a rendersi conto che sono elezioni completamente diverse. Dopodiché, siccome non sottovaluto nulla, noi abbiamo fatto in questa legislatura delle operazioni politiche, secondo me, importanti. perché siamo stati il primo comune ad allargare l'alleanza ai Cinque Stelle e abbiamo fatto l'operazione qualche giorno fa rispetto ai Verdi, che è un altro partito che sicuramente all'Europa si presenterà, e quindi la situazione di partenza non è paragonabile a quella di Ancona. Noi dobbiamo allargare, non ristringere, e quindi la strategia che abbiamo portato avanti è una strategia diversissima ad Ancona. Quindi io sono convinto di una cosa, che la destra qui batterà ancora una volta al muso, perché si illude che possa qualcuno aiutarli da fuori, mentre invece ci devono aiutare da soli. E penso, aggiungo, che rispetto a una regione dove siamo rimasti un po' soli, diciamo la verità, noi non solo vinceremo Pesaro, ma da Pesaro partirà la riscossa e la rivincita per le prossime elezioni regionali. Uno scenario politico in cui Ricci è pronto a cedere il passo dopo dieci anni di governo della città. Il terzo mandato non credo che ci sarà, anche perché la Meloni fa ragionamenti molto politici. Ricci pensa che il terzo mandato favorirebbe il centro-sinistra, che dieci anni siano sufficienti. Io fra l'altro ho fatto anche cinque anni il presidente della provincia, quindi è quattordici anni che faccio l'amministratore locale. Io penso che siano sufficienti e che un buon amministratore non deve avere l'ansia di dover fare tutto lui, deve avere l'ansia di lasciare una bella eredità a chi verrà. Il futuro di Matteo Ricci dopo il 2024 è invece ad oggi quanto mai legato alla precarietà di lavoro in corso nel Partito Democratico. È difficile in questa fase così precaria, come dire, programmare che cosa ognuno di noi potrà fare. Io in questo momento sto programmando una cosa alla quale tengo molto, che è il nuovo libro. Come avete visto ho ripreso negli ultimi mesi questa esperienza delle cene nelle case degli italiani. Sta andando molto bene, è un'esperienza molto bella, che avevo fatto da sindaco parlando della città. La sto facendo nella provincia italiana parlando di politica. Abbiamo deciso di trasformare questa esperienza in un libro. Per Ricci un 2024 come trampolina a una riscossa politica e come anno spettacolare per Pesaro, capitale della cultura. Quell'anno è un anno nel quale avremo i riflettori accesi su di noi. E quindi o noi lo giochiamo al meglio o altrimenti rischiamo di perdere un'occasione che non ci ricapita più. E guardate, le città della cultura, ci sono città che l'hanno gestita al meglio, che hanno avuto degli effetti benefici per gli anni successivi. Ci sono città che sono state il capitale italiano della cultura e non si è accorto nessuno. Quindi molto dipende da come lo giocheremo noi. Ovviamente nel 2024 avremo un programma strepitoso. Lo stiamo costruendo un po' alla volta. L'obiettivo sarà quello di rendere continuamente riflettori nazionali sulla città, attraverso la musica, attraverso lo spettacolo. Attraverso le grandi personalità. E quindi come dire, il 2024 sarà un anno davvero indimenticabile. Dalla fiducia sul centro-sinistra ai nomi per il dopo Matteo Ricci. Nomi che il primo cittadino ha già ben chiari in mente. La serata nel cortile dei musei civici dedicata ai nove anni da sindaco di Matteo Ricci ha avuto come inevitabile chiosa l'idea di prospettiva che lo stesso Ricci ha verso il suo successore a partire da giugno 2024. Nel centro-sinistra ci siano due figure che più di altri hanno le caratteristiche. Uno è Biancani e uno è Vimini. Lo sanno tutti. Noi siamo una squadra. Siamo una squadra. Il segretario comunale, dove è andato? Bellucci sta parlando con tutti. Tutto il 2023 sarà un anno nel quale ascolterà tutti le opinioni di tutti. E quando sarà ora, arriveremo a una decisione. Ma noi siamo una squadra. Chi pensa che qualcuno litighi, non ha capito niente. Noi siamo una squadra. Se passerà come candidato più forte, più competitivo e più aggregativo Biancani, il primo a sostenere Biancani sarà Vimini. Se invece decideremo che il candidato da sostenere è Vimini, il primo a proporlo sarà Biancani. Noi siamo una squadra. Poi faremo le primarie? La coalizione vuol fare le primarie? Facciamo le primarie. I Cinque Stelle vogliono mettere un loro candidato? Bene. I Verdi vogliono mettere un loro candidato? Bene. Altre forze civiche vogliono mettere un loro candidato? Altre forze politiche? Lo vedremo. Ma questo è lo scenario. Dopodiché, ovviamente, Biancani e Vimini devono correre. Devono dimostrare. Perché questa è la mia opinione. Non è l'opinione, non decido io. Ci saranno gli organismi, ci saranno le primarie. Quindi questa è la mia opinione. Entrambi sanno che devono dimostrare di essere all'altezza se vogliono giocarsi questa sfida. Fra tanti temi emersi nel confronto nove anni da sindaco c'è stato anche quello della discarica di riceci. Un'ipotesi di costruzione di questo impianto di smaltimento rifiuti sul quale continuano a moltiplicarsi le voci contrarie. Ma intanto il gruppo Aurora che si occupa di questo progetto tirerà dritto sull'idea riceci in assenza di un piano B realmente percorribile. Contrario il comune di Petriano, contrario il consiglio comunale di Urbino, contrario il consiglio regionale, contrario a Vallefoglia e ora contrario pure il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Eppure senza un valido piano B, Marche Multiservizi e la SRL Aurora andranno avanti col progetto della discarica da realizzare a riceci. Lo ha ribadito l'amministratore delegato Mauro Tiviroli di fronte all'impellente necessità di realizzare un impianto di smaltimento di rifiuti speciali. Dunque si andrà avanti con l'iter verso la sempre più vicina conferenza dei servizi, a patto di non trovare un'alternativa valida in tempi brevi. Un'ipotesi accolta dal presidente di ERA presente ieri a Pesaro e ribadita da Ricci anche durante la serata nove anni da sindaco. Io però ritengo che la strada che è stata presa sulla discarica di ricerci sia una strada oggettivamente impraticabile. Gestita male, io che sono il comune principale non sono mai stato coinvolto, gestita fuori dall'ambito dei rifiuti perché è un tema che va in qualche modo per iniziativa privata quindi non sta dentro il piano dei rifiuti ma è evidente che lì quella cosa non si farà perché il comune di Petriano oggi è contrario perché credo che anche il consiglio comunale di Urbino che confina alla fine si esprimerà contrariamente perché è politicamente diventata una questione ingestibile per quel territorio e perché credo non ci siano neanche le condizioni tecniche affinché questo progetto passi in conferenza dei servizi perché non ci sono le distanze rispetto ai primi centri abitati. Quindi ho invitato la società a ipotizzare un piano B perché quell'impostazione secondo me porta la società a sbattere contro un muro e noi non ce lo possiamo permettere. Il dibattito su Ricci ha arroventato anche il consiglio regionale di ieri dove sono passate tre mozioni contrarie alla discarica di Lega, Movimento 5 Stelle e PD. Su quest'ultima Michele Avitri ha ribadito i ritardi dell'assessore Aguzzi nel nuovo piano gestione rifiuti mantenendo quello attuale che lascerebbe secondo Avitri campo libero a privati e alludendo anche ad una maggioranza contraria ad ampliare le distanze dalle discariche ai centri abitati. Uno scaricabarile secondo Aguzzi non accettabile. Se c'è un peccato originale, se c'è qualcuno che ha fatto nascere una società appositamente per poi presentare un progetto di nuova discarica e quel CDA è targato Partito Democratico al 90%, poi non si può venire a dire in consiglio regionale che è causa della regione o è causa di qualcuno di centrodestra. Qui c'è una chiara volontà politica di chi ha la maggioranza dei consensi nella provincia di Peso Rubino in quella scelta. A questo punto, chiarito questo, c'è stato un forte dibattito su questo, io sono contento che siano passate tutte e tre le emozioni contrarie da parte di tutti i gruppi a questa realizzazione e spero che ci siano le condizioni per evitare che possa venire avanti quello che sarebbe un vero e proprio scempio nelle zone più belle della nostra provincia, le zone vicino a Urbino, vicino a Petriano, le zone delle nostre meravigliose colline dove ci sono aree protette, dove ci sono delle DOP, dove si produce in gran parte le materie prime, il latte in questo caso per la famosa casciotta d'Urbino. Ecco, io spero proprio che si riesca ad evitare questo scempio e la regione farà di tutto in questo senso. Ed ora passiamo alla cronaca. Ricordirete che a febbraio 2022 avevamo dato notizia di una operazione della Guardia di Finanza di Pesaro che aveva scoperto un'abitazione adibita a laboratorio informatico nelle quale un 36enne controllava le vincite delle slot machine in tutta Italia attraverso password illecitamente acquisite. L'uomo attraverso queste password riusciva ad accedere al portale delle più importanti società concessionarie di macchinette da gioco in Italia riuscendo così a conoscere nel fine ciclo e utilizzando le slot come veri e propri bancomat. Durante questi mesi le indagini delle fiamme gialle si sono dunque allargate ad altri tre uomini residenti in provincia che hanno prodotto altrettante ordinanze di custodia cautelare di cui una in carcere. Arresti che sono stati corroborati anche dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca di circa 1.200.000 euro su beni immobili, mobili e conti correnti. Nel mese di maggio appena trascorso ci siamo occupati spesso di incidenti sui luoghi di lavoro. Un tema, quello della sicurezza che ha portato a intensificare i controlli dei carabinieri sul territorio e in tal senso sono stati scoperti diversi lavoratori in nero che hanno portato anche alla sospensione dell'attività di alcune aziende. 16 lavoratori in nero e 6 sospensioni di attività per altrettante aziende comprese fra i comuni di Gabicce Mare, Urbagna e Tavoleto. I territori in cui si sono concentrate nelle ultime settimane i controlli del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri provinciali. Verifiche mirate a ruota di informazioni captate sul territorio che si sono concentrate prevalentemente nei settori di tessile, agricoltura e pubblici esercizi. In 10 attività ispezionate è stata rilevata la presenza di ben 16 lavoratori in nero che hanno causato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per 6 aziende. Significativi gli interventi in due aziende in particolare. Nella prima è stata riscontrata la presenza del 100% di lavoratori in nero, ovvero 3 sui 3 presenti. Mentre nella seconda è stata accertata la presenza di manodopera irregolarmente occupata di 9 lavoratori in nero su 14 presenti in azienda al momento del controllo ispettivo. Le verifiche hanno riguardato anche il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi del lavoro rilevando gravi violazioni al testo unico sicurezza luoghi di lavoro. I militari hanno riscontrato inadempienze per non aver effettuato la valutazione di tutti i rischi presenti, per non aver designato responsabile del servizio di prevenzione e protezione e per la mancata informazione e formazione in materia di sicurezza dei lavoratori. Per queste irregolarità accertate saranno elevate sanzioni amministrative ed ammende per circa 100.000 euro. E continuano a moltiplicarsi le impalcature nel cuore del centro storico pesarese. Dopo i maxi lavori al palazzo dell'ex intendenza di finanza, ora sono spuntati imponenti ponteggi in corso 11 settembre volti a lavori di restauro statico conservativo di Palazzo Ducale della Prefettura. Proprio sabato 10 giugno Palazzo Ducale tornerà tra l'altro ad aprirsi alle visite al pubblico. Intanto però le impalcature hanno fatto storcere il naso a diverse attività commerciali del corso ingabbiate dall'ennesimo cantiere. E altri lavori che avanzano sono quelli compresi fra stazione ferroviaria, cavalca ferrovia e sottopasso dei cappuccini. Quest'ultimo viene ora chiuso al transito anche dei pedoni, limitando di fatto il passaggio fra la zona di Pantano e il centro storico. Contestualmente i lavori chiudono ora il traffico dei mezzi anche parte di via Cardinal Massaia lungo il sagrato della chiesa dei cappuccini. 1923-2023 compiono cent'anni gli scout di Pesero, un prestigioso anniversario che sarà celebrato con tre giorni di festival. 1923-2023, cent'anni di scoutismo a Pesero da celebrare tra quello che è stato di questo movimento in tre giorni dedicati a Piazzale della Libertà, dal 16 al 18 giugno. Sì, innanzitutto una grande emozione di poter festeggiare questo grande traguardo di cento anni, cento anni di presenza dello scoutismo qui a Pesero nel territorio. Vogliamo aprirci tantissimo alla cittadinanza, quindi veniteci a trovare, prepareremo attività tipiche di un campeggio scout, ci saranno i lupetti che ci faranno le nostre attività, le coccinelle che anche loro prepareranno qualcosa, esploratori guide, tutte le varie fasce delle nostre fasce educative di cui ci occupiamo. Un altro evento importante che abbiamo preparato è il convegno sicuramente che sarà il 16 giugno, venerdì 16 giugno, al Parco Molaroni. Saranno presenti Monsignore Zuppi, il presidente della CEI, il vescovo di Bologna, che risponderà alle nostre domande con un pedagogista dell'Università Cattolica di Milano, Johnny Dotti. E inoltre saranno presenti anche capo guide, capo scout, che sono un po' i nostri rappresentanti dell'associazione a livello nazionale. un convegno volto al futuro, il titolo sarà appunto Generare Futuro, perché il centenario deve essere sì una ricorrenza, ma deve essere anche uno sguardo a quelli che saranno i prossimi 100 anni. Non abbiamo intenzione di mollare. Generare Futuro si parte anche da una bella base, perché 1.200 iscritti ai movimenti scout provinciali sono numeri importanti. Sì, è un po' di tempo che stiamo su questi numeri, siamo molto contenti della presenza nel territorio, vorremmo fare di più, ma noi comunque siamo tutti quanti volontari e oggi trovare tempo per tutte le cose che ci sono da fare è sempre più complicato. Facciamo servizio, togliamo spazio a quello che è il nostro, non mi faccio dire tempo libero, perché oggi il tempo libero non esiste più. Quindi togliamo spazio a quelli che sono gli altri impegni della nostra vita per dedicarlo un po' agli altri, per essere un po' autori di quello che poi saranno le generazioni future, mettere un po' di seme per l'educazione delle generazioni future. Vi avevamo dato alcune anticipazioni già nelle scorse settimane e oggi è anche arrivata l'ufficialità del programma della 59esima edizione della Mostra del Cinema di Pesaro che si terrà dal 17 al 24 giugno e che sarà aperto dal fil di culto degli anni 80 Flash Dance. Vi ricordiamo che l'evento speciale sul cinema italiano sarà invece dedicato al premio Oscar Giuseppe Tornatore e nell'occasione verranno presentati tutti i suoi film, tra cui Ennio straordinario documento su Morricone e Nuovo Cinema Paradiso nella versione restaurata. Altro grande protagonista sarà Dante Ferretti, scenografo premio Oscar che accompagnerà a Pesaro la presentazione della sua autobiografia e poi ci sarà Carlo Verdone a raccontare al pubblico la sua straordinaria carriera e presenterà Borotalco che lo scorso anno ha compiuto 40 anni. Previsti anche tre film italiani in anteprima mondiale e spazio al cinema sperimentale argentino e a quello di due registe internazionali. La tedesca Milena Ghirke e l'anglo-palestinese Rosalind Nashashibi. E dal cinema concludiamo con la musica perché a luglio tornano i concerti targati Xanitalia. Quest'anno saranno due gli eventi, il 3 e il 10 luglio. Come da tradizione nei primi lunedì di luglio ci sono i concerti Xanitalia. Quest'anno la sperimentazione è un'orchestra sinfonica alle prese della musica cubana con le due interpreti più importanti di Cuba, attualmente sono davvero la numero 1 e la numero 2 o viceversa, sono Ayla Monpie e Vania de Borghès. Quindi siamo fortunati ad averle qui, sono in tour in Europa e quindi le abbiamo prese. Loro verranno da sole perché vogliono esibirsi assieme alla nostra orchestra, quindi senza un gruppo di supporto, ma Roberto Molinelli arrangerà per questa serata il loro repertorio. Il secondo appuntamento si intitola Vivre la V con Kelly Joyce, questa cantante appunto di nascita parigina e oggi residente in Italia, che ci proporrà i suoi successi, ha avuto tanti successi internazionali nel mondo del pop francese e anche dei successi appunto internazionali francesi non di propria paternità. Signoretti è importante sia dal punto di vista economico perché è il patrono, però è anche importante il suo coinvolgimento all'interno di questo progetto. Mario Aiudi e Claudio Morosi sono stati convocati direttamente da lui. Sì, quest'anno oltre che la spinta sulla musica internazionale, anche questa nella sottolineatura di due personalità del territorio che hanno avuto successo mediatico con The Voice Senior e quindi un pesarese e un fanese saranno insieme a noi sul palco nella serata di Kelly Joyce. 15 anni fantastici, pieni di emozioni, pieni di sogni, pieni di momenti importanti. Una collaborazione che sono assolutamente convinto durerà tanti altri anni perché appunto, come dicevo, coinvolge me ma soprattutto tutta la mia famiglia che si è ormai legata a questi avvenimenti, a questi eventi. Di avere due titoli come quelli che si presentano questa stagione, insomma che vanno verso la musica internazionale, da Cuba alla Francia, insomma è anche nella cifra che l'Orchestra Sinfonica ha sempre saluto dare, non solo del crossover ma anche di dialogare con musiche e culture di altre parti d'Europa e del mondo in pieno spirito, città della musica UNESCO. Chiaramente con Ciacciana Italia, così come il rapporto con l'Orchestra Sinfonica, che ha avuto anche un upgrade importante da parte del Ministero, un merito dell'attività che sono uscite a mettere in campo, e la qualità che sono uscite a mettere in campo nel tempo, e diventerà ovviamente un pilastro fondamentale dell'accoglienza musicale e culturale della Capitale 24. Vi aspettiamo tutti in Piazza del Popolo, l'ingresso è gratuito, il palco è enorme, la professionalità dei service che ci mette a disposizione il Comune di Pesaro è altissima, quindi si potrà godere di bellissima musica all'aperto nell'estate pesarese. E si conclude qui lo spazio informativo di Rossini News, ma prima di salutarvi vi ricordiamo come sempre alcuni appuntamenti di questa sera sulla nostra emittente, a cominciare da quello che arriva subito dopo il TG, per chi ci segue in prima edizione all'eventi potrete rivedere il nostro speciale realizzato in occasione della seconda edizione di Ecofest sul Parco San Bartolo, una seconda edizione dedicata al tema del rispetto per la vita sulla terra. E poi la politica, quella degli amministratori del territorio, quella di amministrando il nostro programma di ogni mercoledì sera alle 21.20 che vi porta alla conoscenza delle attività amministrative del nostro territorio, che sia comunale, provinciale o regionale, in questo caso approfondiremo l'attività della sindaca di Tavuglia, Francesca Paolucci, intervistata dal nostro Antonio Astuti, come detto appuntamento alle 21.20 come ogni mercoledì. E poi l'informazione di Rossini TV torna in diretta domattina alle 7.20 con Buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che nella edizione del giovedì, ovvero di domani, sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi. E invece si chiude qui questa edizione delle telegiornali Rossini News. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata su Rossini TV. Grazie.